Vola nel mondo della creatività con Mandala Machine di Minnie! Viva la fantasia! Con Mandala Designer le tue mani creano bellissimi capolavori! Mandala Designer ora anche con Peppa Pig! Entra nel labirinto elettronico! Ascolta il libro parlante! Libera il mago! Segui il sentiero! Trova le creature incantate! Solo così potrai liberare il mago con il labirinto elettronico! Grazie a tutti!